Benvenuto alla Scuola di Formazione Politica della Lega al Professor Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri. Presidente, benvenuto. Grazie. Presidente del Consiglio. Grazie Presidente per essere con noi. Secondo me noi ci siamo avviati da un po' di tempo in una prospettiva in cui destra e sinistra sono categorie un poco politiche superate. Senti populistico? Populista? Io sono populista. Populismo perché significa dedicare a questa attività, dedicarsi a tempo pieno, con passione o comunque con grande dedizione, con senso di responsabilità in una prospettiva di lungimiranza, uguale attenzione ai bisogni della gente, star vicini alla gente, non lasciarsi abbindolare dalla propria vanità, non lasciarsi distrarre dalle forme di arroganza che sono un po' collegate all'esercizio del potere. Attraverso questa riforma un meccanismo di riqualificazione delle persone che hanno perso il lavoro, intesa in questi termini, sarà sicuramente una riforma fondamentale anche questa nel tassello riformistico che stiamo realizzando. Grazie. Ultima domanda. Pensate che al G7 ho esordito subito con tanti bilaterali, con tutti i leader europei, nella consapevolezza, e qui c'è stato anche l'orgoglio, che rappresentava una grande nazione. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie.